Gruppi stabili, igiene, niente mascherine per i bambini. Il Ministero dell'Istruzione ha definito le linee guida per la ripresa delle attività in presenza di servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6 anni. Il documento detta le regole affinché si possa garantire lo svolgimento in totale sicurezza. Nel rispetto delle norme anti-Covid diverse sono le novità come per la mensa e gli scuolabus. Dal comune di Fanno arrivano su questo delle buone notizie. Dal primo giorno di scuola, quindi dal lunedì 14 settembre, noi saremo nelle condizioni di garantire tutti i 1800 pasti che generalmente le nostre nuove cucine comunali producono. E addirittura per il servizio di nido anticiperemo l'avvio di questo servizio a lunedì 7 settembre. Quindi diciamo arriveremo al primo giorno di scuola, il 14 settembre, per la stragrande maggioranza dei bambini e dei ragazzi, comunque con i motori accesi. Riusciremo a sfruttare al meglio tutti gli spazi di rifezione che al 90% siamo riusciti a preservare all'interno delle strutture scolastiche di cui abbiamo dovuto rimodulare gli spazi interni. E in alcuni casi ricorreremo invece alla distribuzione e alla somministrazione dei pasti all'interno delle classi. In entrambi i casi comunque tutto nel rigoroso rispetto di quelle che sono le disposizioni di sicurezza sanitaria, a partire dal distanziamento e della sanificazione degli spazi, prima e dopo ogni intervento di mensa. Intanto nei vari edifici sono tutti al lavoro per le operazioni di pulizia e sanificazione. All'ingresso è già pronto il termoscanner per rilevare la temperatura corporea dei bambini. Qualora dovesse risultare superiore ai 37 gradi e mezzo verranno subito contattati i genitori. Poi dopo il parere del medico di base si potrebbe procedere al tampone per verificare l'eventuale positività al coronavirus. Altre norme poi riguardano gli scuolabus a servizio delle scuole dell'infanzia e delle primarie. L'accordo fra il comitato tecnico scientifico e le regioni come tutti sanno è della capienza dell'80% o comunque del percorso inferiore ai 15 minuti. Allora noi non abbiamo percorsi dei nostri scuolabus inferiori ai 15 minuti quindi abbiamo calibrato tutta la nostra organizzazione con la capienza all'80%. Dove era necessario abbiamo anche sdoppiato le linee ed aggiunto quindi anche dei mezzi nuovi. Quest'anno aggiungiamo altri due mezzi, aggiungeremo in tutti i percorsi scolastici l'assistente che è un volontario dell'Auser con cui avevamo già il contratto naturalmente in modo che ci possa essere un adulto che non è l'autista che è impegnato a guidare naturalmente che possa far rispettare le regole. Anche in questo caso, prosegue la dirigente, siamo in grado di partire sin dal primo giorno e quindi dal 14 e il servizio è assicurato per tutti. Novità anche sul fronte delle mascherine per i bambini dai 6 anni in su. Gli esperti suggeriscono sempre di indossare quella chirurgica ma il comitato tecnico scientifico ha espresso una nuova indicazione che consente l'uso delle mascherine di comunità, ovvero in stoffa, a patto che vengano lavate e disinfettate tutti i giorni. Mascherina che servirà anche per salire sullo scuolabus dove un assistente dovrà igienizzare le mani dei bimbi. Inoltre dovrà essere rispettata la distanza interpersonale evitando assembramenti sia in salita che in discesa. Faremo una riunione apposita martedì pomeriggio sia con tutti gli autisti coinvolti nel servizio sia con gli assistenti. Da quel momento, quindi da martedì pomeriggio in avanti, tutte le famiglie saranno avvisate precisamente dall'assistente coinvolto o dall'autista sull'orario preciso perché alcune cose sono state leggermente rimodulate data la riorganizzazione e saranno avvisate in maniera precisa dell'orario di raccolta del proprio figlio.